Molte volte nella mia vita quotidiana la paura mi frena dal fare delle cose piccole e grandi. La paura del fallimento, la paura di... forse del rifiuto a volte. Come superare questa paura? Non puoi superare qualcosa che non esiste. In questo momento hai paura? In questo momento. Che io possa dire qualcosa che ti danneggi? È quella la paura? In ogni momento della tua vita hai paura? No. Quindi, quando non hai paura, rimani semplicemente così. Perché, per creare la paura, devi usare un eccesso di immaginazione. Per non essere nella paura, non devi fare niente. La paura si verifica per via di un'immaginazione eccessiva. Stai creando cose che non sono accadute. ciò che potrebbe accadere nella tua mente accade in migliaia di versioni diverse. E molto probabilmente non accade mai. le cose di cui hai avuto paura. Prendi 100 cose di cui hai avuto paura. Probabilmente 99 di esse non sono mai successe. Non è così? Sì? Quindi, la tua paura riguarda sempre ciò che non esiste. Non puoi combattere o non puoi superare ciò che non esiste. Possiamo superare qualcosa che esiste. Non puoi superare ciò che non esiste. Dobbiamo solo desistere da questo sforzo. Goditi la paura. Dopotutto, è una tua creazione. Ti piacciono i film dell'orrore? Sì. Voglio dire, dici di no, ma li stai producendo. È solo che non creano profitti. Tutto qui. Paura significa che stai producendo film dell'orrore nella tua mente. Nessun altro è disposto a vederli. È un fallimento per il produttore. Ma li stai producendo. Perciò, produci qualcos'altro. Produci una commedia, una storia d'amore, un thriller con suspense. Provaci e vedi. Oggi, semplicemente, siediti e produci una storia d'amore, un thriller con suspense, una commedia. Crea un film di 5 minuti nella tua mente. davvero. Inizia a usare la tua mente in modo diverso. È solo diventata una tua abitudine. È solo diventata una tua abitudine di creare film dell'orrore tutto il tempo. Hai guardato abbastanza film dell'orrore. Sono noiosi. Crea qualcos'altro. Anche se, non è che se produci questi film, queste cose accadranno nella tua vita. comunque potrebbero non accadere, almeno ti godi il film. Nella realtà potrebbero non accadere. E allora? Almeno ti godi quello che sta accadendo nella tua mente se non puoi goderti quello che accade nel mondo. Non è così. Almeno questo privilegio aspetta ogni essere umano. Non è così. Anche se il mondo non è gentile con lui, almeno la sua mente dovrebbe essere gentile con lui. dovrebbe produrre qualche bel film.